Allora, stavo pensando, il tema è sono di fretta, ma non è sono di fretta di giorno, sono di fretta di sera, è sono di fretta in generale. Ho già fatto la mia versione di giorno, adesso vi faccio vedere cosa faccio quando sono di fretta la sera. Tanto arrivo a casa già truccata così, oppure direttamente faccio un trucco naturale in questo modo, senza l'ossetto. Ho deciso di giocare con un rossetto, una tinta per labbra forte, in questo caso utilizzerò una tinta per labbra, abbastanza appunto forte. Io ho scelto Lip Envy, si dice così, e faccio il linguistico, di Urban Decay in color greedy, che è un color ciliegia. Sai, vedete, è proprio come quando morde una ciliegia. E lo vado ad applicare con un pennellino perché mi trovo meglio. Allora, quindi lo metto, metto un po' di prodotto sulla mano. Vedete, è proprio color ciliegia. Vedo di sbrigarmi prima che si asciughi. E con un pennellino per labbra, lo vado ad applicare sulle labbra completamente assutte per la tinta. Prima vado ad elineare. Volendo potete anche usare il pennellino, l'applicatore che c'è dentro, ma dovete stare più attente. Proviamo adesso, vi faccio vedere come faccio io quando uso questo. Quando uso il pennellino per labbra, vado prima ad elineare. Quando uso l'applicatore, vado prima a metterlo sulle labbra, cioè al centro. Man mano che mi avvicino ai bordi, cerco sempre di essere più delicata. Seguo il contorno naturale delle mie labbra. E continuo ad applicare. Ora mi ritengo soddisfatta. Come vedete, adesso ho un look piuttosto serale. Se voglio dare un tocco ancora più forte, applico un mascara nero. e per completare l'opera, metto un colore illuminante sull'arco di cupido. Io uso nylon di me, che è nuovo, però mi va di provarlo. Quindi, se riesco a prenderlo. Quindi uso nylon di MAC, ne prendo un pochino col dito. E lo metto sull'arco. E lo metto anche un po' qua, sull'occhio. Cioè, per illuminare la palpebra. Cioè, l'arco, il punto luce sul soffercilio. Un po' all'interno. E anche un po' sulle guance. Nylon è perfetto. Cioè, è un ombretto davvero fantastico. Perché è un colore biancastro. Però lo posso andare anche a sfumare in questo modo. E lascia proprio un effetto luminoso. Senza colore proprio. Ok. Il look è finito. È un look veloce, serale. Comunque ad effetto, perché... Insomma, a me piace. Poi, a me sembra proprio che queste labbra color ciliegia... Sono sti serali, però sono comunque abbastanza facili da ottenere con un po' di precisione. In 5 minuti ce la fate, secondo me. Basta che abbiate già sulla base. Comunque anche con la base è un trucco veloce. La versione serale del trucco sono di fretta. Spero che vi piaccia. Provatela! Ciao!